Per giocare un calciatore deve essere almeno al 90%, se sono al 50%, anche se si chiamano Diego Costa, Godino, Miranda, non sono utili alla squadra. Domani se Diego Costa non ce la farà, in campo scenderà Adrian, un giocatore che ci ha dato molto, che sta bene, nel cuore ho la massima fiducia. Penso anzi che domani segnerà un gol di sicuro. L'ho già detto l'altra settimana, per noi Diego Costa è fondamentale tanto quanto Cristiano Ronaldo e Messi per Real e Barca. Non penso si possa parlare di pressione ma di responsabilità, la responsabilità di giocare una partita importante, quella del Barcellona di continuare a fare la storia, non pressione, quella ce l'ha a chi non riesce a dare da mangiare ai propri figli. Noi abbiamo una bella responsabilità, con tante cose positive e altre tante negative. Domani sarà una partita importante per le due squadre ed entrambe cercheranno a loro modo di vincerla. La responsabilità è tanta per entrambe le squadre, sia noi che loro dovremo dimostrare di che pasta siamo davvero fatti. Non credo che sia meno la responsabilità che abbiamo noi, che la responsabilità che hanno loro per essere lo che sono e noi per essere lo che siamo.